mi è appena tornata in mente la spesa che ho fatto ieri sera vino preso astice c'è linguine ananas fresco pane con le olive qualcosina per l'aperitivo alla fine avevo di tutto e di più dietro di me però c'era quell'anziano signore aveva comprato un mezzo litro di latte e un po di pane e anche un chilo di zucchero a un certo punto mi ha fatto un timido sorriso o forse lo solo immaginato in quell'istante ho spostato lo sguardo dalla mia alla sua spesa chissà se io alla sua età potrò ancora concedermi questi piaceri tra 20 30 anni riuscirò a mantenere il mio tenore di vita o dovrò scendere a patti come fanno in tanti